Sai come acquistare prodotti con 6€ e 1€? Se vuoi saperlo, continuo a guardare. Sto per testare l'abbigliamento autunno-inverno più economico di Temu per scoprirne insieme la qualità. Il valore totale dei prodotti è di 180€. Questa è l'app Temu che vi consiglio di scaricare per non perdere ulteriori vantaggi. Temu vende praticamente qualsiasi cosa, dalle cose per la casa all'abbigliamento, le decorazioni, insomma di tutto. I tre principali vantaggi dell'app Temu sono prezzi bassi, ampia gamma di prodotti disponibili ed esperienza d'acquisto. Vi ricordo anche la spedizione gratuita e i resi gratuiti fino a 90 giorni. Sono disponibili diversi metodi di pagamento, tra cui Klarna, che io uso tantissimo perché ti permette di pagare in comoderate. Vi ricordo anche che durante la celebrazione del primo anniversario Temu, sia i nuovi che i vecchi utenti, cliccando sul link in descrizione, potranno ottenere un coupon di sconto di 100€, valido per tutti i prodotti Temu. Inoltre i nuovi utenti potranno acquistare questo prodotto per solo 1€. Ci tengo anche a fare una piccola precisazione, lo sconto è reale, quindi non è una fregatura. Temu, appunto, durante queste celebrazioni fa spesso queste super offerte, dà questi super sconti per i nuovi utenti, quindi approfittatene. Iniziamo proprio con un prodotto super scontato perché il prezzo originale del prodotto lo vedete scritto qui nello screenshot, ma voi lo pagherete appunto solamente 6€. Mi serviva una giacca del genere, quindi bella comoda, larga, da indossare con le tute o comunque per quando mi vesto sportiva. Il fatto è che quelle che piacciono a me sono sempre da uomo, ma anche la S da uomo per me, anche se mi piacciono i vestiti comunque larghi, con vestibilità over, sono sempre comunque troppo grandi per me, quelli da uomo. E da donna non riuscivo a trovarla. L'ho trovata su Temu, però forse avrei dovuto prendere una taglia in meno perché ho preso la M, perché su Temu per alcuni capi ci sono le taglie classiche taglie, per altre invece quelle asiatiche. Quindi dovete poi controllare la tabella per vedere insomma quale taglia scegliere. Io avevo paura che la giacca fosse troppo piccola, quindi ho preso una taglia in più, non considerando però che è una giacca comunque già con una vestibilità over, e infatti è forse un pochino troppo grande. È fatta devo dire davvero molto bene, cioè esattamente come la volevo io, tra l'altro questa giacca c'è anche beige, rosa e azzurra, se non ricordo male, però l'avevo scelta nera da mettere con tutto, siccome mi serviva comunque una giacca del genere, non avendone altre ho detto che preferisco prenderla nera. Comunque ha il cappuccio, ha la cerniera e i bottoni, due tasche, anche belle grandi, e le maniche sono fatte così, è bella imbottita. Ho scelto la taglia M, anche se è una taglia asiatica. Non avendo mai preso vestiti su Temu, se non una volta sola un jeans, che poi ho tra l'altro anche regalato perché avevo sbagliato anche lì la taglia, borse, accessori sì, ma abbigliamento non l'ho mai provato, quello di Temu, quindi era anche per me tutto nuovo. Adesso ho capito più o meno che taglia devo prendere. Arriva qui ed è proprio come la volevo io, però vedete, è un po' troppo grande. I polsini sono comunque belli stretti, quindi rimane comunque ben ferma la manica, però per farvi vedere la lunghezza, vedete sono fatte così. Non aspettavo altro che questa giacca, perché mi serviva veramente una giacca invernale. Cioè la mia giacca avrà tipo più di dieci anni, ormai è arrivata veramente alla fine. Ho detto, ma sì, con la scusa della collaborazione mi prendo la giacca. Adesso però devo valutare se tenermela io o se darla a mia sorella. Questo è il secondo capo scelto da Temu, super scontato. Allora questo è il jeans che ho scelto, lavaggio chiaro, è morbidissimo. Io odio i jeans quelli duri che, a parte che sono proprio fastidiosi una volta indossati, ma poi soprattutto dietro scendono tipo no, dritti, non vanno ad accompagnare la forma. Ecco, io quei jeans li detesto. Questo è morbidissimo, fatto davvero molto bene e ho preso la taglia S ed è fatto così. Il modello di jeans che indosso praticamente sempre. Questo lo indosso a vita bassa. Per indossarlo a vita alta devo per forza mettere la cintura, perché altrimenti mi va troppo largo. Se fisicamente siete più o meno simili a me e volete indossarlo a vita bassa, vi consiglio comunque di prendere la S, perché la S è comunque, secondo me, un pochino largo. Andiamo avanti con questo. Allora, io adesso me lo metto e ve lo faccio vedere direttamente indossato. Facciamo così. Ditemi se non è carinissimo. Cioè praticamente è una sciarpa cappello, tutto unito. Ha una parte più lunga e una più corta. Così con questa, vedete? Questa è più corta, questa è più lunga. Con questa ci fate il giro e diventano lunghe o uguali. Ero indecisa se prenderlo nero o beige. Alla fine ho scelto questo qua beige, però anche nero, molto bello. Però ho detto già la giacca nera, anche il cappello nero. Ho detto vabbè, fammelo prendere beige per non passare, no? Proprio inosservata. Perché chiaramente quello nero magari si nota, no? Non dà proprio nell'occhio. Questo qua beige invece si vede che è una meraviglia, no? Comunque no, troppo carino, morbido. Non vedo l'ora di indossarlo, poi io sono molto freddolosa. D'inverno metto praticamente sempre il cappello perché patisco tanto la testa. E patisco anche tantissimo il collo. Cioè io quando ho il collo leggermente scoperto, io non... Cioè proprio non ce la faccio. È il mio punto debole d'inverno. Quindi devo sempre avere il collo coperto con una sciarpa, il cappello. Se poi voglio togliere il cappuccio, mi basta abbassarlo e diventa una sciarpa. Ho trovato il portafoglio della vita. Allora se siete amanti di Hello Kitty, Kuromi, Cinnamon Roll, insomma tutto quel mondo lì, su Temu c'è veramente qualsiasi cosa ma proprio originale. Proprio del marchio San Rio. Ma di tutto, dalle posate, alle ciotoline, alle tazze, maglie, pigiami, di tutto. E ho trovato questo portafoglio. Allora, ditemi se questo portafoglio non è stupendo. L'ho scelto di Kuromi perché lo volevo nero, in realtà. Mi piaceva anche quello di Hello Kitty, ma era rosso. Comunque c'è di tutti i personaggi, però mi piaceva di più nero, fatto così a quadretti. Anche l'interno mi piace molto perché ha diversi scomparti. Vabbè, per le carte, insomma per le solite cose. Anche lo scomparto, fatto così, per i contanti. Cosa non scontata perché alcuni portafogli piccolini o comunque fatti così non ce l'hanno. E poi ha il portamonete. Troppo, troppo bello. Ormai preferisco questi portafogli. Prima usavo quelli giganti, ma tutte le volte, quando magari mettevo la borsa più piccola, dovevo sempre cambiare tutto e io mi scoccio. Preferisco averne uno da mettere con tutte le borse. Infatti questo qua è piccolo, ma non troppo. E comunque riesco ad usarlo anche con le borse più piccole che ho. Quindi sono molto molto contenta di questo portafoglio. È bellissimo. Se vi piace il genere vi consiglio di dare un'occhiata sull'app Temu. Perché appunto ce ne sono veramente di tantissimi. Anche, non per forza di Kuromi o Ilochitti, anche con altre fantasie. Ma fatti comunque simili a questo. Andiamo avanti con un set composto da tre maglie. Allora io ho approfittato di questa collaborazione per prendere appunto alcuni capi autunnali, invernali, di cui avevo bisogno. Ad esempio maglie semplici da mettere tutti i giorni con tutto. Anche con un pantalone della tuta. Ho visto questo set appunto composto da tre maglie. Vi mostro prima questa grigia, che magari in video rispetto alla nera si vede un pochino meglio. Allora, sono fatte così. Sono leggere, ma allo stesso tempo calde. Perché hanno praticamente delle strisce pelosine, diciamo. Hanno una parte un po' traforata e una parte con appunto il pelo. Ecco, forse così si vede. E sono fatte così. Insomma, semplici. Sono semplicemente arricciate qui nei lati. Vedete, dentro c'è l'elastico. Allora, come taglia? Io ho preso la S. Mi stanno perfette. Mi piacciono come mi stanno. Però avrei potuto prendere anche una taglia in più. Anche perché non so come si comporteranno poi con i vari lavaggi. Quindi, considerando che comunque è un modello che veste molto molto aderente, avrei comunque potuto prendere la taglia anche la M. Quindi, se siete simili a me fisicamente, se le volete strette strette, prendete la S. Se le volete un pochino più morbide, la M. Se avete soprattutto il seno più grosso, ma siete comunque più o meno come me fisicamente, prendete la M, non prendete la S. E c'è appunto questa grigia, questa beige, non mi soffermo più di tanto perché sono praticamente identiche. Cambia solo appunto il colore. Poi, la nera. Avevo bisogno di una borsa a tracolla, ma capiente, sportiva, semplice, da mettere tutti i giorni. Io in realtà ce l'ho una borsa del genere. È più un marsupio. Il fatto è che me l'ha rubato Omar, ormai da diversi mesi lo sta usando lui ed è diventato praticamente suo. Quindi ho deciso, con la scusa, di prendere una cosa del genere, ma già che c'ero, un pochino più grande, così almeno qui ci sta praticamente di tutto. Se mi voglio portare anche dietro, che ne so, la fotocamera, ci sta anche la borraccia. Ed è una borsa fatta in questo modo, tipo impermeabile, a tracolla. Si può regolare. Mi serviva una borsa del genere e l'ho trovata su Temu. Questo forse è il massimo. Non si può accorciare più di così, ma tanto io l'avrei indossata esattamente in questo modo. È insomma semplice. Esattamente come la cercavo io. Allora, ha una tasca con cerniera, piccolina, e dall'altra parte ha due taschini, un pochino più grandi, però senza cerniera. Vedete? E di qua invece è quello con la cerniera. Disponibile in altri colori, ma l'ho scelta nera. Adesso passiamo ad un set composto da tre pantaloni della tuta. Uno nero, uno grigio chiaro e uno grigio scuro. Allora, sono rimasta un po' delusa, sono sincera, perché forse non avevo guardato bene sul sito, ma pensavo che tutti e tre i pantaloni avessero la scritta sulla gamba, il che lo rende un po' meno pigiama, secondo me. In realtà la scritta c'era solo quello nero. Quindi vi mostro prima questo. Sono tre pantaloni della tuta felpati. Semplici da mettere tutti i giorni. Sotto sono fatti così. E vedete? Questo ha la scritta. Il che, come dicevo, lo rende meno pigiamoso, secondo me. Questo grigio scuro, che già il colore ricorda un po', no? Quello dei pigiami, non ha la scritta. Proprio da nessuna parte. Ho scelto la S, mi sembra. Sì, ho scelto la S ed è perfetto. Cosa che non mi capita quasi mai, non è strettissimo in vita, perché di solito quando prendo questi pantaloni, o comunque queste tute, i pantaloni sono sempre troppo troppo stretti. ed io non sopporto le cose che mi stringono in vita. Non so per quale motivo, proprio non ce la faccio, mi manca il respiro. Questo è l'elastico, che non ha laccetto, quindi non lo posso stringere. Insomma, devo indossarlo per forza così, però è perfetto. Né troppo stretto, né troppo largo. E questo è quello grigio. Insomma, pantaloni semplici, da mettere tutti i giorni, anche per andare a fare la spesa. Mi servivano e li ho presi. Poi sono belli caldi, perché dentro sono felpati. Ecco qua. Poi ho scelto questo maglioncino. E devo dire, è bello morbido, non punge assolutamente, perché comunque è fastidioso indossare quei maglioncini che pungono, perché magari in questo periodo metti solo questo sotto, cioè magari metti la canotta, ma le braccia sotto rimangono comunque scoperte, si sente se punge. D'inverno magari no, perché sotto ci metti una maglia, maniche lunghe, una maglia col colletto alto, quindi non dà fastidio. Però in questo periodo, sì. E questo non punge assolutamente. E' un po' corto, quindi perfetto con un pantalone a vita alta. E l'ho scelto bianco, grigio e nero. Ma anche qui era disponibile in diversi colori. Le maniche sono fatte così, tipo a palloncino, ma non troppo. Poi ho preso una felpa per mia sorella. Tutte le volte che mia sorella sceglie qualcosa, puntualmente quando arriva poi quella cosa magari piace anche a me, però l'ho presa per lei, quindi la regalerò a mia sorella. Però ve la voglio far vedere perché è carinissima. E' una felpa larga, bianca, calda, perché dentro è felpata, con questa scritta nera davanti. E' davvero molto molto carina. E niente, questa l'ho presa per lei. Taglia, così, quando poi ve la mostro indossata potete regolarvi. Ma sia io che mia sorella indossiamo, ci piacciono le cose over. Taglia XL, così quando poi me la indosso potete appunto regolarvi sulla taglia. Ultima maglia, sempre nera. C'era anche rosa, mi sembra grigia, ma non c'era la mia taglia. Forse per quello l'ho presa nera. Comunque è fatta così, troppo troppo carina. Ha questa parte qua, vedete? Che sembra quasi una maglia scollata con un top al di sotto, una volta indossata. In realtà è proprio fatta così, è tutto unito. Le maniche sono fatte così. Vi ho mostrato tutto, fatemi sapere qual è il vostro pezzo preferito. Il mio, ovviamente, il portafoglio. Perché è bellissimo. Ma poi è fatto davvero molto bene. E di portafogli fatti così in giro non se ne trovano. Almeno io non li ho mai visti. Spero di avervi tenuto compagnia. Ci vediamo prossima settimana con un nuovo video. Ciao!